buongiorno l'ultimo modello quella con bluetooth wifi integrato lui è luigi luigi lavora per un importante società con un contratto a tempo indeterminato sapessi cosa costa mantenere due figli lo so due figli anch'io davvero ma congratulazioni ma se sei anche venuto al battesimo e lui e marco ha un contratto a tempo indeterminato con adeco e lavora nella stessa azienda di luigi dai che mi fai perdere il conto libri ma quanti libri sono la mattina ho bisogno del montacarichi per metterli nello zaino se tu come me avessi un contratto in somministrazione beneficeresti di un sostegno all'istruzione di 150 euro per ogni figlio e con l'asilo come la metti con tutto quello che costa come minimo mi deve tornare che sa mettersi il pannolino da solo mia moglie non lavora e quindi come lavoratore in somministrazione ho diritto anche ad un contributo per l'asilo nido continua potrei andare avanti tutto il giorno ho detto continua se hai un contratto in somministrazione e abiti fuori città hai diritto un contributo per il trasporto extraurbano poi hai la possibilità di chiedere un prestito a condizioni agevonate per esempio per non parlare delle tantissime opportunità per le spese mediche e poi non lo so se sei assunto con contratto di lavoro in somministrazione disponi di un concreto sistema di welfare è possibile accedere gratuitamente ad una serie di prestazioni e agevolazioni per te e la tua famiglia